Uè che cactus fai? Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video. Io sono XIUDER e finalmente è arrivato ragazzi il primo teaser ufficiale della season numero 9. Beh eccolo qua pubblicato da pochissimi minuti nella pagina ufficiale di Fortnite ci mostra una specie di non lo so ragazzi è un qualcosa di futuristico. Molto probabilmente quella maschera è molto simile a quella che abbiamo visto nell'evento e anche nel video di questa mattina e di ieri mattina. Quindi ragazzi a voi questa domanda. Come vi sembra questo teaser e cosa pensate possa essere la season 9? Quale tema? Quale skin? Chi lo sa? Io per oggi vi faccio vedere solo questo. Vi ringrazio un sacco per avere guardato questo video ma noi ci vediamo alle 17 in live. Ciao! 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 Ciao!